vediamo questi acquisti dal giappone allora ragazzi dato che state fremendo per vederli sono molto sparsi e non avranno un ordine se non quello totalmente casuale perché li ho appoggiati lì e li vedremo come vengono quindi senza ordine di come li ho comprati o di dove li ho comprati il primo che vi faccio vedere pagato 1800 yen se volete armatevi di calcolatrice vicino per vedere quanto ho speso 1800 yen più o meno saranno 12 euro all'incirca c'è questa figure che ho trovato in un negozietto di akiba di devilman che avevo già visto anche qui in italia di importazione ovviamente in varie fiere dove costava decisamente più di 12 euro una figure di akira fudo con la maschera che si vede all'inizio di questa serie dove rio appunto fa indossare questa maschera ad akira per fargli vedere i demoni quindi secondo me è molto figa da un'altra è anche glow in the dark c'è tutta una serie di queste figure che spero di trovare abbiamo diverse figure dell'universo di golden kamui che come sapete è uno dei miei manga preferiti al momento se non il mio preferito da quelli in corso in italia giappone è già finito ha un molto successo anche grazie all'anime che io non ho visto e che vedrò quando finirò di leggere il manga e ho trovato quasi tutte le figure che volevo di golden kamui tranne quella di ashirpa questa presa da mandarake al costo di 1500 yen è praticamente venduta come usata però c'è scritto anche unopened quindi mai aperte in realtà il bello di molte cose di mandarake che vengono vendute come usate quando non lo sono praticamente mi sembra fatta molto molto bene anche il viso fatto bene non è come quelle figure sgabecce che si trovano dovunque nelle varie fiere italiane e non ma è molto molto definita mi piace parecchio se c'è una domanda che mi fa letteralmente impazzire è cosa cuciniamo stasera se a pranzo bene o male ogni giorno riesco ad arrangiarmi facendo un po di pasta con qualche sugo sempre diverso la sera è davvero molto difficoltoso trovare qualcosa che sia gustoso fantasioso e buono da mangiare ma miracolosamente è arrivato il mio soccorso hello fresh una soluzione che sono sicuro potrà essere molto d'aiuto anche a te dato che in fondo quella domanda ce la facciamo sempre un po tutti hello fresh è un servizio davvero incredibile che propone un box con dentro delle ricette con tutto l'occorrente per realizzare dei piatti davvero gustosi e diversi ogni volta tu dovrai semplicemente scegliere le ricette e hello fresh ti consegnerà gli ingredienti nelle giuste dosi e la scheda ricetta da seguire passo dopo passo in modo veramente semplice i menu propongono davvero di tutto dei classici italiani rivisitati i piatti della cucina internazionale menu di carne e pesce vegetariani come quello che ho scelto io adatti a tutta la famiglia conta calorie e addirittura anche flex italiani l'abbonamento settimanale è flessibile si può quindi adattare alla tua routine e al tuo stile di vita e tra l'altro lo puoi anche modificare quando vuoi selezionando il giorno di consegna o metterlo in pausa e in più cosa per me molto importante il servizio è anche ecologico infatti c'è molto meno spreco sia di cibo che di tempo che di energie la box è riciclabile gli ingredienti provengono direttamente dal produttore e sono freschi di stagione inoltre le emissioni di co2 sono pari a zero e non ti ho detto la cosa più importante con il mio codice sconto che vedi qui in sovraimpressione evox hf 13 hai fino a 65 euro di sconto cosa stai aspettando quindi vai subito a questo link che trovi anche in descrizione fai il tuo ordine usa il mio codice risparmia e buon appetito ho preso diverse cose di golden kamui perché c'erano appunto molto in offerta ad esempio questa di un altro personaggio di golden kamui che è il tenente mi sembra che sia tsukishima che ho pagato 2000 yen fa parte appunto della stessa linea di quella che abbiamo visto prima dovrebbe essere nella stessa posa eccola lui è seduto in posizione tipicamente giapponese anche qui il viso è fatto benissimo come quello del manga e appunto la posa è la classica posa giapponese non mi sembra usata cioè almeno non ha niente di di particolarmente rotto né niente del genere quindi insomma se sono usate così vanno benissimo non c'è nessun tipo di problema a proposito di golden kamui c'è ancora un'altra figure che ho pagato 1900 yen ma questa è totalmente nuova anche perché è imbustata quindi nonostante sia venduta ad un prezzo che potrebbe essere un prezzo dell'usato perché 10 15 euro per figure che in italia te le fanno pagare lira di dio veramente per ste robe è un paradiso bisognerebbe andare in giappone una volta alla settimana ecco qua c'è una bella collezione di figure di golden kamui adesso ultima figure di golden kamui è quella dedicata a un personaggio molto apprezzato soprattutto dal pubblico femminile è ogata anche noi non mi ricordo se è un tenente sottotenente o qualcosa del genere il prezzo di questa 1800 yen quindi sempre 15 16 euro è questa è di quella collezione appunto dove i personaggi sono seduti dove c'è anche a scirpa mi sembra in questa questa collezione dell'unica che purtroppo non ho trovato ecco anche lui e questi sono proprio bellini da mettere sulla libreria perché appunto sono seduti accovacciati quindi sono davvero molto molto fighi e quelle di golden kamui sono finite adesso vediamo il resto qui ci devo mettere qualcosa di pesante se no queste non verranno mai pesante allora 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 scherzavo in realtà non sono finite ci sono anche un paio di cose del gashapon questa di a scirpa che è un po' oscena effettivamente e questo sempre preso ad un gashapon di golden kamui piccoline così però da far vedere al volo al volo al volo data machination abbiamo preso tutti uno di questi personaggi di senseia che sono queste box dove appunto prendi un personaggio e ti può uscire uno qualsiasi dei 12 cavalieri d'oro non mi è uscito quello che preferivo ovvero quello di shaka della vergine che è il mio personaggio preferito dei cavalieri d'oro però è uscito comunque un personaggio molto figo e tra i cavalieri più importanti secondo me ovvero shura di capricorn adesso ve lo vado a sbustare così gli mettiamo il mantello e lo vediamo sono piccolini e vengono 1100 yen mi sembra questi quindi 8 9 euro sono fatti molto bene sono fatti molto 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 bene non sono a livello di una nendoroid però sono sicuramente meglio di un funko pop più dettagliati e molto fighi e caruccio e caruccio direi sono tutti i 12 cavalieri d'oro fatti da tamashination con le armature senza elmo comunque sono molto 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 carini c'è anche la scatola eventualmente da 12 pezzi però sono comunque mystery box quindi puoi anche prendere 12 pezzi e avere sfiga massima della vita 12 cavalieri tutti uguali l'uno all'altro è nel senso questo non si sa come come ti capita come ti capita capita che cosa non ho capito franci non ho capito la domanda se era una domanda o un'affermazione allo store del museo ghibli ho preso diverse cosine questa statuina del personaggio dei mamma aiuto che è anche appunto come si chiama lo store dello studio ghibli questo è un bobblehead qua con scritto mamma aiuto sotto boing boing c'è la testa tutta sblandolonsolona poi questo di totoro che è anche questo uno di quelli che compri senza sapere cosa c'è dentro ma appunto parte di una linea allora questo totorino eccolo super caruccioso anche lui vediamo come va messo questo quello con la trottola esatto è super caruccio al museo ghibli ho comprato queste figure uscite di recente di tutti i mezzi di trasporto dei film ghibli questo appunto è di laputa sono piccolini ma molto 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 interessanti e carucci sono della takara tommy ne sono state annunciate diversi e per ora sono usciti questi tre ne avevo parlato anche durante otaku news laputa tra l'altro è uno dei miei film preferiti dello studio ghibli un po' troppa plastica usano i giapponesi secondo me allora questi come dicevo sono molto piccoli ma fatti molto molto bene adesso ve lo faccio vedere ecco qua questo è il primo quello di laputa castle in the sky laputa il castello nel cielo uno dei film più belli è anche il primo film dello studio ghibli è molto pesante è piccolo ma molto molto pesante si vede che è fatto veramente con degli ottimi materiali costo di questi sai che non me lo ricordo c'è quello di porco rosso eccolo qua questo ancora più iconico probabilmente per la maggior parte delle persone nonostante anche quello di laputa lo sia però credo che porco rosso lo sia di più e che laputa magari sia leggermente più di nicchia con la bandiera dell'italia anche di porco rosso vediamo un po maluccio questo ma eccolo qua bello 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 e poi di questa serie c'è questo di ponio molto molto caruccio anche questo qui e spero che usciranno gli altri per quando andrò in giappone così non esauriranno e li potrò prendere anche lì perché a questo punto vorrei fare tutta la linea non mi ricordo quale avevano annunciato oltre a questi se non sbaglio c'era quello di nausicaa andatevi a guardare le vecchie puntate di otaku news perché le avevamo annunciati con umberto e qui tra l'altro c'è anche il personaggio sopra caruccio che è eccolo qua questi sono proprio contento di averli presi poi sempre al museo c'era questo che è quello che ti danno all'ingresso per entrare poi a vedere il corto cinematografico al ghibli museum di mitaka nonostante purtroppo non l'abbiamo visto poi il il corto e ho comprato anche alcuni art book che probabilmente in italia non arriveranno mai del maestro isao takata e sono the art of my neighbors dei yamadas l'arte dei miei vicini yamada roba meravigliosa io takata lo adoro e in italia purtroppo non è considerato al pari di miyazaki quindi comunque è più difficile che arrivino le sue robe come questa è questo di only yesterday il costo del primo è di 2.900 yen 2.476 costa questo film molto molto bello che trovate se non ricordo male su netflix e poi c'è il terzo che è quello che preferisco the art of kaguya sama the tale of the princess kaguya principessa kaguya 2.800 yen è il mio film preferito dello studio ghibli meraviglioso meraviglioso questi dopo me li sfoglio per benino molti di questi libri sono usciti anche in italia nel senso della serie the art of per panini però non tutti purtroppo soprattutto quelli di takata faticano ad arrivare come figure ho preso anche questa di crayon shin chan allo store della medicom medicom toys shin chan è un personaggio che adoro sono tante figure su di lui e ne vorrei prendere anche altre sinceramente ci sono quelle con sua madre con suo padre sono tutte fighissime alcune sono queste qui dietro che si vedono la roba più pesante c'è ora tra l'altro al museo ghibli ho preso anche queste cartoline molto fighe questa ne ho prese due perché una per la marzia e queste che sono appunto le riproduzioni del del museo vero e per quanto riguarda i manga quindi passando al cartaceo ho preso un po di robina del maestro tezuka questi sono the early works del maestro tezuka ovvero i primi lavori che ci sono stati raccolti in un cofanetto ci sono il bimbo a e b il diario di ma chan e altre cose questo l'ho pagato 15 mila yen sono cose un po più rare e 15 mila yen sono sui 100 120 euro però sono cose che volevo assolutamente vediamo anche l'interno com'è sto aprendo tutto con voi per la prima volta adesso odora di giappone allora questo è romance island del 1946 guardate che figata poi sono sicuro che insomma maggior parte di voi magari non amino queste cose super vintage e ci sta però io adoro troppo la storia del manga e del maestro tezuka queste sono cose che cercherò anche di leggere con google translate in qualche modo metterò di impegno questo è il diario di ma chan che effettivamente è la prima cosa che tezuka abbia mai scritto proprio il suo primo manga vero e proprio guardate com'è fatto proprio come se fosse un vero oggetto d'epoca ragazzi guardate qui tampato fedelmente come era come era prima è tanta roba tanta roba l'ho pagato l'ho pagato tanto ma poi cosa abbiamo ancora qui ci sono queste belle edizioni di alcuni manga del maestro tezuka questo cofanetto davvero spettacolare qui dentro ci sono bambi e pinocchio questi due ci sono anche in italia però erano queste edizioni così carine così simili all'originale queste queste repliche che queste non sono gli originali ovviamente ma sono delle repliche che ho voluto prenderli collezione ragazzi collezionismo e anche questo una malattia mentale che ci porta a fare scelte sconsiderate qui dentro cosa c'è ci sono forse delle versioni addirittura ancora più primitive quelli che sono questi questi due manga abbiamo questo shi takarajima nuova isola del tesoro scusate 1500 yen quindi questo l'ho pagato relativamente poco non è la versione originale naturalmente perché l'originale shi takarajima ve lo vendono anche a 60 80 mila yen robe incredibili naturalmente perché è un fumetto ricercatissimo però c'è il cofanetto molto figo a differenza dell'edizione che abbiamo in italia questo è una riproduzione naturalmente come dicevo prima non è l'originale ma è una riproduzione credo sì di quello originale degli anni 40 quindi quello del 47 e magari poi vi farò vedere anche le differenze rispetto a quello appunto che ha pubblicato Rizzoli Lizard che è la versione degli anni 80 che tezuka rifece sulla base di questo di cui erano andate perdute alcune alcune tavole quindi sicuramente modernizzandolo ecco è questa una bella prova del tempo che fu insomma di quello più più vecchio e poi c'è questa edizione in volumetto del diario di ma chan che in realtà c'è anche in quell'altro cofanetto però l'ho preso così perché appunto è questa testimonianza del primo fumetto di tezuka e quindi la dovevo prendere insomma no per averlo anche in volume così ci sta assolutamente 400 yen pagato 2 euro e 50 lo dovevo prendere che cazzo fai lo lasci lì le due cose probabilmente più pesanti di tutti gli acquisti erano queste due questi due mattoni qui primo è questo box incredibile pagato 3500 yen che contiene quelli che sono i notebook le riproduzioni ovviamente dei notebook quindi dei quaderni di appunti schizzi e quant'altro del maestro tezuka questo è uno scrigno ragazzi un vero e proprio scrigno faccio vedere giusto un attimo al volo il contenuto di alcuni di questi libretti sono proprio cose prodotte fedelmente dall'originale cioè sono tavole di prodotte sono copertine di prodotte questa è una roba meravigliosa schizzi preparatori cioè qui c'è c'è roba che posso studiare per per mesi anni veramente ci starò a ore ragazzi ad ammirare questa roba a ore con questi e google translate aperto davanti finché non imparo il giapponese boh è uno scrigno è uno scrigno del tesoro in realtà la mia idea era proprio quella di di fare dei corsi di giapponese vediamo magari ci farò un video a parte perché questa roba merita troppo merita troppo è stupendo questo è il primo perché di questo ce ne erano due quindi prima parte e seconda parte e dentro è come quell'altro ci sono un sacco di di quaderni degli appunti riprodotti come gli originali cioè cose immaginate voi di avere un artista che è il vostro artista preferito della vita che a un certo punto vi pubblichino tutto quello che lui ha fatto in carriera compresi gli sketchbook di quando aveva 12 anni sarete sicuramente esaltati poi ho preso delle riviste che dovevo prendere assolutamente due numeri di com del maestro tezuka cioè questa è proprio la rivista di tezuka fondata da lui questo in formato rivista e questo è un formato rossurato e poi un numero di garo ho preso il numero 5 del 65 poi ve li farò vedere magari qualche video c'è la maglietta di uniclo dell'attacco dei giganti piccolo spoiler per chi non ha visto l'attacco dei giganti e cazzi suoi sarebbe anche l'ora i regali che ho preso alla marzia che sono questo gattobus e questa maglietta con illustrazione di suo hero maruo da midori la ragazza delle camellie e ultimissime cose ho preso questo regalo per mio cognato grande fan di gonagai questa che è la rivista atom fan club si chiamava se non sbaglio appunto il fan club tezuka e poi ho preso infine highway star di katsuhiro otomo questo volume che probabilmente non arriverà mai in italia l'ho preso in giapponese così ho detto in qualche modo cerco di leggermelo con google translate e vediamo se se ci capisco qualcosa mentre magari provo a imparare il giapponese è un volume unico l'ho pagato 800 yen quindi oh ecco insomma sono gli acquisti che ho fatto in giappone spero che vi piacciano questo me l'ha regalato il caro marco tatuaggio giapponese ha avuto la brillante idea di regalarmelo quando stavamo partendo quindi appesantendomi tantissimo la valigia perché è un cartonato però grazie tesoro questo regalo